Primo giorno per l'A45 riaperta al traffico cosiddetto leggero. Tutte le precauzioni sono state prese e le disposizioni della procura sono state rispettate nel protocollo dall'ANAS. Dopo Val Savignone il volto che presenta l'A45 fino a Canili ci regala il restringimento della carreggiata. Si transita solo nelle corsie centrali dei viadotti con tanto di sensori installati autovelox funzionanti peraltro da stamani. Non si può oltrepassare i 40 chilometri all'ora lungo il tragitto che interessa il viadotto Puleto. Il limite riguarda anche il Tevere 4. Siamo in mezzo all'Appennino Tosco-Romagnolo. Nelle giornate fredde dell'inverno ghiaccio e neve sono lo spauracchio per tutti e senza una strada alternativa tutto diventa più complicato. Necessario dunque correre ai ripari e la presenza del ministro Toninelli data per la mattinata di venerdì servirà anche a chiarire questo aspetto visto che l'ANAS ha ripreso in dote la vecchia Tiberina Trebis nel tratto di Val Savignone Canili, quello che era stato abbandonato 25 anni fa. Il ministro, se arriverà da Roma, si accorgerà che anche il segmento di Pieve Santo Stefano è ridotto talmente male che necessita di un intervento urgente. Non c'è solo la piazzola finita nel merino della magistratura che grida allo scandalo ma tutta la tenuta dell'asfalto non è certo degna di una strada di grande comunicazione europea.